Questo è il piano. E ognuno qua dentro serve a qualcosa, quindi ascoltate bene e non rompete i coglioni. Ci rimangono meno di cinque giorni. Per entrare nella zona nera servono dei lasciapassare certificati da salò. Essa ce ne procura uno e a me devo preparare falsi. E il timbro dell'RSI? Non ho i calchi per quello, un originale lo trovi solo nei difficili governativi. Evidentemente, ho già chi può prendercelo dalla prefettura. E lei è d'accordo. Yvonne si fida di me. Prenderemo una camionetta militare. Di quelle che i fascisti usano per il trasporto dei soldati o dei prigionieri. Fabri guida e io in Molotov staremo nel retro con delle divise da ufficiare. Tutti gli altri nascosti nei vani sotto le panche. Una volta dentro, scusa, come la mettiamo con i bottoni di guardia? Ti faremo entrare nel bunker e ce li chiudiamo dentro. E come pensi di fare? Con un gioco di prestigio? Quasi. Simulere un attacco aereo americano. Quei pezzi di merda si barriccheranno nel bunker come l'arve. Per fare questo ci servi tu. Ti arrampicherai qui. La torre delle sirene. Il centro di controllo di tutti gli allarmi della città. Tutto qua. E chi ci garantisce che questi soldati entreranno nel rifugio? Avranno qualche piccola incentiva.